Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti in questo video. Oggi brevissimo appuntamento per ritornare sulle distribuzioni GNU Linux 100% Free Software, 100% libere, e raccomandate dalla Free Software Foundation. L'appuntamento sarà breve perché tratteremo Ututo, una distribuzione GNU Linux il cui sviluppo ormai è stato discontinuato, sospeso, ma volevo parlarvene per motivi di completezza, anche per motivi storici, e per finire questa serie è dedicata appunto alle distribuzioni GNU Linux 100% libere. Allora, intanto vi ripeto che per utilizzarle dovete avere un hardware compatibile, quindi come fate a sapere se avete un hardware compatibile? Beh, basta scaricare Triskel, provare il Live CD e vedere che tutto sia stato rilevato correttamente. Di solito a poter dare dei problemi sono le schede wireless, quindi in quel caso dovreste sostituire la scheda wireless del vostro PC, oppure utilizzare un adattatore wireless per utilizzare il Wi-Fi. Comunque, la prima distribuzione GNU Linux che ho trattato sul mio canale è appunto Triskel. Se vi volete avvicinare a questo mondo, Triskel è proprio la distribuzione che vi consiglio, perché è basata su Ubuntu ed è facile da utilizzare. Io lo stesso l'ho utilizzata per un po', prima di passare poi ad altro. Poi, sul mio canale ho trattato anche PureOS, la distribuzione GNU Linux sviluppata da Purism per il loro laptop, per i loro portatili. Anche questa è facile da utilizzare, ma è basata su Debian. Poi, ho trattato Parabola. Parabola è la distribuzione GNU Linux che ormai uso da un po', con soddisfazione, devo dire. È basata su Arch. Questa ve la consiglio solo se già siete degli utenti Arch. In quel caso, potreste sentirvi tranquillamente a casa vostra. Altrimenti, dovrete armarvi un po' di pazienza per risolvere dei piccoli problemi che potrebbero capitare. Va bene, poi ancora ho trattato Iperbola, una distribuzione a quanto strana, che al momento non è né carne né pesce, perché vorrebbe diventare un sistema operativo BST, e quindi al momento siamo in una fase di passaggio, a quanto strana. Va bene, poi abbiamo ancora Geeks, Geeks System, una distribuzione che mi attira veramente tantissimo. Il paradigma di Geeks è molto simile a NixOS, e quindi mi attira moltissimo per il fatto che con un semplice file si configura tutto, e quindi puoi andare a riprodurre quel sistema avendo semplicemente quel file. È chiaro che bisogna sapersela cavare un po', non è una distribuzione assolutamente per principianti. Io ho fatto un timido tentativo, che non è andato benissimo, diciamo, sono sicuro che prima o poi proverò di nuovo, perché mi attira veramente tantissimo. Dinabolic non l'ho trattata, perché si tratta semplicemente di una distribuzione in live cd, con un'enfasi speciale per audio e video. Quindi, essendo che l'uso è abbastanza specifico, l'ho completamente saltata. Infine abbiamo Dragora, Dragora sì, l'ho trattata. È una distribuzione, diciamo, che si ispira tantissimo a Slackware. E niente, oggi vedremo Ututo. Ututo è stata la primissima distribuzione GNU Linux 100% libera, e quindi anche la primissima raccomandata dalla Free Software Foundation. Quando è uscita, immaginatevi che Richard Stallman ha detto Ututo è l'unica distribuzione GNU Linux che conosco. E quindi ovviamente ha utilizzato proprio Ututo, prima di passare a Gnewsense e poi a Triskel. Va bene, adesso io ve la mostro un po' in macchina virtuale, anche se c'è ben poco da mostrarvi. Come detto, è una distribuzione sostanzialmente morta. Quella che vedete è Ututo 2017RC. Quindi nemmeno la versione definitiva che poi non è mai uscita. Ututo è basata su Ubuntu, qua vedete lo Unity Desktop, non so se ve lo ricordate, ve lo ricordate sicuramente se avete utilizzato Ubuntu qualche anno fa. E niente, vi mostro un po' lo Unity Desktop, mentre continuo a parlare. Prima del 2017 Ututo non era basata su Ubuntu, ma era basata su Gentoo, quindi era anche un modo di utilizzare Gentoo in modo più semplice. Una particolarità di Ututo degna di nota è che non solo è stata la primissima distribuzione GNU Linux 100% libera, ma è stata anche una delle prime a fornire un live CD. Oggigiorno diamo per scontato la possibilità di testare un sistema operativo GNU Linux tramite live CD, ma questa tecnologia non era scontata per quei tempi. Ututo è stata una delle primissime distribuzioni a fornire il live CD. È stata anche una delle prime a fornire un sistema di rilevamento automatico dell'hardware. Beh, ripeto, rilevamento automatico dell'hardware per hardware compatibile, perché comunque abbiamo un kernel Linux liberato, privo di blob binari, privo di firmware proprietario. Ma quell'hardware compatibile era in grado di rilevartelo automaticamente, cosa non scontata per quei tempi. vediamo un po' su che kernel siamo, 4.9.4 del kernel libre o comunque liberato di blob binari, possiamo vedere con lsb release altre informazioni, e vediamo che è basata su Ubuntu. Qua compare proprio Ubuntu. Ubuntu 16.4.1 LTS, quindi vedete un po' a quanto tempo fa risale lo sviluppo di questa distribuzione. Vabbè, direi che c'è poco da dire, a me è importante fare questo riepilogo, trattare anche Ubuntu, visto che Ubuntu è rimasta la listata sul sito della Free Software Foundation. Comunque, c'è da piangere perché Ubuntu è praticamente morta? Beh, direi solo con un occhio. Abbiamo Triskel, abbiamo PureOS, che fanno sicuramente bene il loro dovere. se volete una distribuzione semplice da utilizzare, non c'è bisogno di ricorrere a Ututo oggigiorno. Oggigiorno abbiamo Triskel, abbiamo PureOS. Quindi direi che questo è tutto. È stato un video breve. Niente, ci vediamo alla prossima. Ciao da Clarintux!